Tre derby e cinque gare consecutive, o meglio, solo ed esclusivamente spareggi salvezza. Il mese di gennaio del 2021 parte in maniera decisa in casa Nardò. L'occasione è grande per i ragazzi di Mister Danucci, pronti a migliorare il proprio bottino in campionato. Si parte il 6 gennaio contro il Portici. I campani sono terzultimi in classifica a quota 7. Quattro giorni dopo sarà l'occasione di sfidare in una lotta al vertice la team Altamura. Quella a cui Murgiani sarà la prima sfida al Giovanni Polo II del nuovo anno. Entrambe sono a ridosso al momento dei quartieri nobili di classifica, a sorpresa o forse no. Altra trasferta, il 17. Al Degli Ulivi c'è una rinnovata Fidelisandria, quindi il 24 si sfida in Salento il Francavilla in Sinni. Anche la formazione lucana, esattamente come quella granata, sembra aver cambiato completamente registro rispetto alla scorsa stagione, avendo 12 punti all'attivo. Si chiude il mese il 31 con il Molfetta. Appuntamento al Paolo Poli con la formazione di Mister Bartoli che sin qui si sta facendo apprezzare per un calcio propositivo. Sarà un mese verità anche per le ambizioni del Nardò. Se davvero si potrà pensare a qualcosa di meglio della salvezza, sarà il campo a stabilirlo con pochi dubbi.